Salve, sono G.H. del TV The G&K e prima di mostrarvi il progetto del giorno vorrei parlarvi un po' del nostro canale come penso a quei The G&K tratta solo ed esclusivamente di video sul fai da te a scopo illustrativo quindi se vi piacciono questi video vi prego di premere il pulsante in basso e iscrivervi al canale se i nostri video vi sono piaciuti vi prego di farcelo sapere con un bel pollice o se avete qualche critica o qualche considerazione da fare vi prego di scriverlo nei commenti in modo da renderci partecipi delle vostre idee detto questo vi lascio la posizione della vostra balestra grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.